Va bene, basta non incontrare gli sbirri poi per il resto Cosa? Dio pa... No, da un po' mi son cagato addosso E io me ne vado cavalcando lontano da questo ingu Addios Verrò subito al sodo Perché non sto più pubblicando E ho le mie ragioni, perché mi sono scartavetrato E coglio... Mamma mia, ma che casino fa questo scarico? E soprattutto state vedendo un me del passato, voi del futuro Quindi è un po' un plot twist Ma in pratica dovrò essere nuovamente operato Oddio, sono un gay Che bello, che divertimento Quindi niente casco per un bel po' Grazie per la freccia Ma soprattutto folletti e follettine Me ne vado in Giappone Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti Cosa pensate della situazione di Chiara Ferragno e Fedez Bisogna un attimino parlare di queste cose Perché se no l'algoritmo dice No dai, a nessuno interessa il tuo video Quindi non lo pubblico Siccome ho voglia di fare un po' di foto e video del Giappone Siccome mi capita una volta nella vita Di finirmene dall'altra parte del mondo Mamma mia Fatemi sapere se vi interessano dei vlog divertenti alla Human Safari In cui mi abbufferò come un matto di Giozza and Company Peccato che questo scarico al catalizzatore Se no figa lancerebbe veramente le spade laser Fa veramente male al cervello questo suono Ah e non vi ho detto che tornerò praticamente a maggio Quindi per un po' sarò inattivo sul canale Mi dispiace per tutti quelli che si sono iscritti Grazie all'ultimo video che YouTube ha deciso di farmi andare Veramente ma veramente bene Ragazzi mi ha fatto fatturare in una maniera incredibile quel video Sono diventato uno YouTuber serio Come ogni YouTuber serio che si rispetti Send Nudes Sparisco Amici della Postale Questo è un video illustrativo Assolutamente verrà rimesso il DB Killer domani Non appena si raffredderà lo scarico Vabbè ragazzi io nel dubbio vi saluto E ci vediamo in un prossimo video Presumibilmente dal Giappone con furore Comiciwa